Buon pomeriggio venerdì 16 marzo 13.50, ben ritrovati con InfoStudio. Sono stati arrestati tre presunti responsabili di una rapina che il 21 ottobre scorso a Reggio Calabria provocò la morte della vittima, un'anziana che nascondeva in casa una grossa somma di denaro, adesso bisogna capire come i rapinatori fossero entrati in possesso di questa informazione. Entrarono in casa attendendola quando uscì da chiesa dove era andata la messa, era una domenica, poi con un pretesto o forse con la forza, questo ancora non è stato del tutto chiarito. Poi hanno rovistato tutto l'appartamento ma non sono riusciti a trovare i soldi, ci sono riusciti solo i poliziotti dopo aver scoperto l'omicidio perché probabilmente per farsi dire dove era il denaro i tre hanno iniziato a pestare una anziana di 88 anni alla quale le fratture che ha subito sono state fatali. La morte è stata scoperta qualche ora dopo. I due delle tre persone arrestate vengono ritenute rapinatori seriali, era questo quello che facevano, rapinare e scippare. All'uscita dalla questura di Reggio Calabria quando è avvenuta la traduzione in carcere ci sono stati momenti di tensione tra un gruppo di parenti che si era appostato fuori dalla questura ed alcuni giornalisti ne ha fatto le spese un operatore. A Reggio Calabria la polizia ha arrestato per omicidio preterintenzionale e rapina pluriaggravata tre persone, due uomini e una donna, per la rapina che quasi cinque mesi fa costò la vita ad una pensionata di 88 anni, picchiata fino a provocarne la morte. Le persone arrestate, sospettate di essere rapinatori seriali, sono Massimo Berlingeri, 44 anni, Benito Alessandro Bevilacqua, 24 anni, e Patrizia Caristo, 30 anni. L'operazione, denominata Malanova, è stata condotta dalla squadra mobile di Reggio Calabria e coordinata dalla procura. I fatti risalgono al 21 ottobre del 2017, quando poco dopo le 19 tre persone avevano atteso che la vittima rientrasse dalla chiesa e poi si erano introdotte all'interno dell'appartamento della pensionata, allo scopo di costringerla a consegnare loro il denaro che aveva in casa, una somma di quasi 50.000 euro in contanti che l'anziana aveva nascosto. Malgrado avessero messo a suo quadro l'abitazione, i rapinatori non riuscirono a trovare il denaro e così picchiarono selvaggiamente la donna fino a fratturarle dieci costole. Lesioni di una gravità tale che finirono per provocarne la morte. Furono i poliziotti a ritrovare poi il denaro durante il sopralluogo effettuato dopo l'omicidio, scoperto a causa dell'allarme dato da alcuni familiari della vittima, che non vedendola arrivare ad un incontro domenicale, erano andati a cercarla a casa, trovandola sul pavimento della camera da letto, priva di vita. Decisive per far luce sul delitto dell'anziana si sono rivelate le intercettazioni disposte dalla procura di Reggio Calabria e l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza delle telecamere situate nelle vie circostanti al condominio nel quale è stata commessa la rapina. Guardando i filmati, gli investigatori hanno notato i passaggi sospetti di due auto usate dai tre arrestati, che nel pomeriggio del giorno della rapina avevano pattugliato a lungo la zona, fino al momento in cui avevano incrociato la vittima che stava rientrando a casa. L'attività di intercettazione telefonica ed ambientale e di analisi dei dati tecnici ha poi consentito di acquisire ulteriori elementi utili a consolidare il quadro indiziario a carico dei tre indagati. L'inchiesta ha fatto luce su una serie di reati predatori da parte dei tre arrestati, due dei quali erano quotidianamente dediti a rapine in strada, furti e scippi nella zona sud della città, prendendo di mira persone deboli, soprattutto anziani e donne, di cui studiavano le abitudini e i movimenti prima di entrare in azione. Due nuovi provvedimenti di contestuali sequestro e confisca di beni ai danni di Amedeo Matacena, l'ex parlamentare ed ex armatore, parlamentare di Forza Italia, che come sappiamo adesso è latitante a Dubai, sono stati operati dalla divisione investigativa antimafia di Reggio Calabria. Il valore dei beni sequestrati in questa occasione si tratta di due conti correnti, uno dei quali è stato acceso in una banca delle isole Seychelles, per il quale è stata già attivata un'apposita rogatoria internazionale, abbonta a 540 mila euro. Matacena è stato condannato nel 2014, lo sappiamo definitivamente, a tre anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, poi è anche stato coinvolto nell'operazione Breakfast, ed era stato colpito a dicembre da un altro provvedimento di sequestro. In quell'occasione infatti l'autorità giudiziaria aveva disposto il sequestro e la confisca di 12 società dell'ex parlamentare, quattro con sede in Italia, a Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Roma, ed otto con sede all'estero, fra l'altro alle isole Senchizza e Nevis, un arcipelago dell'Antilla, America centrale, Portogallo, Panama, Liberia ed in Florida, quindi negli Stati Uniti, e poi era stato disposto il sequestro di disponibilità finanziarie, riconducibili a Matacena, collocate su conti esteri alle Seychelles, per un valore di oltre 10 milioni di euro. Ancora prima, a luglio del 2017, il Tribunale di Reggio Calabria aveva fatto sequestrare bene di Matacena per oltre un milione di euro. Poi da altre indagini erano emerse ulteriori risorse dell'ex parlamentare di Forza Italia, che però formalmente erano intestate alla moglie, Chiara Rizzo, ma che secondo i magistrati erano di fatto nella sua disponibilità. Notizia di non molto tempo fa. Un'ora fa la Procura di Catanzaro ha chiuso l'indagine preliminare nei confronti di Don Felice La Rosa, il sacerdote che insieme ad altre tre persone è accusato di possesso di materiale pedopornografico e che è stato condannato nel 2017, era l'ex parroco di Zungri, San Felice La Rosa, per prostituzione minorile. La nuova accusa si riferisce a 132 immagini pedopornografiche che sono state trovate sul suo telefonino, sequestrato il 16 novembre del 2016, nell'ambito dell'inchiesta che portò proprio all'arresto del sacerdote di altre due persone. Oltre al prete, che è originario di San Calogero, che da poco è tornato in libertà, sono indagati Miroslav Idief, un bulgaro di 30 anni, residente a Vibo Valencia, già condannato a 5 anni e mezzo nell'operazione Settimo Cerchio, così si chiamava, e che è attualmente detenuto, e Mariano Mamone di Pargeria e Luciano Restuccia di San Calogero. Un cittadino pakistano è stato trovato in possesso di 440 grammi di eroina ed arrestato dalla Guardia di Finanza Trebisacce. era in procinto di salire su un autobus proveniente da Cosenza e diretto a Forlì. È stato invitato ad esibire i documenti d'identità, si è mostrato nervoso, a quel punto i finanziari hanno voluto approfondire la questione. Chiamato un cane antidroga, in un pantalone che era all'interno dello zainetto, sono stati nascosti gli involucri con 440 grammi di eroina. Erano 55 ovuli ancora sigillati. Venduta, la droga avrebbe fruttato circa 110 mila euro. Abbiamo parlato di ovuli, adesso parliamo di uova ed è molto meglio, perché oggi, domani, ci siamo finalmente, ne parliamo a tempo, oggi, domani e dopodomani in 4.500 piazze italiane tornano le uova di Pasqua dell'Ail. 25esima edizione di questa iniziativa a favore dell'Associazione Italiana contro la leucemia, l'infomia e il mieloma, che è posta sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica. Donazione minima di 12 euro per ricevere un uovo di cioccolato e, così, finanziare la ricerca, i progetti di ricerca, sostenere l'assistenza domiciliare, i centri ematologici, le case alloggio dell'Ail, così vengono definite, nelle quali può trovare ricovero, possono trovare ricovero i malati e i loro familiari, perché le cure spesso presuppongono un periodo di degenza anche lontano dalla propria città, dalla propria sede, abbastanza lungo, con costi che, dunque, sarebbero per qualcuno non sostenibili o difficilmente sostenibili, e poi anche il supporto alla formazione delle figure mediche, professionali, infermieri, tecnici, medici, appunto, che devono combattere contro i tumori del sangue. Questo è lo Spot 2018. Contro le malattie del sangue abbiamo fatto molto, ma non è ancora abbastanza. Sostieni Ail. È stato ritrovato vivo ieri sera Salvatore Astorino, il giovane di 24 anni, che nel tardo pomeriggio di ieri, sempre, si era allontanato da casa per andare a pescare a Verzino. A trovarle è stata una squadra di vigili del fuoco che, dopo averlo soccorso, lo ha portato non senza difficoltà in superficie. Il giovane nel complesso stava bene, aveva alcune ferite, è stato portato in ospedale per accertamenti con lui. C'era un altro ragazzo, e quella è stata anche la sua fortuna, il quale è anche lui caduto nel burrone, ma poi è riuscito a risalire, a salvarsi, e poi ha dato l'allarme. Un po' di paura, insomma, per questo giovane, ma tutto sommato se l'è cavato. Parliamo adesso di dislessia o di DSA, disturbi dell'apprendimento in genere, così questa è la sigla con la quale si riconosce. Non sempre, per la verità, perché, come sentirete nel servizio, arrende oggi, si conclude, iniziato ieri, due giorni di lavori, si conclude il convegno nazionale sulla dislessia, che si tiene appunto all'Università di Arcavacata. Dicevo, non sempre i casi vengono riconosciuti, questo provoca naturalmente un gap tra i malati effettivi e coloro invece che affrontando i disturbi possono affrontarli, possono riuscire a superarli, o comunque ad affrontare meglio la vita in questo modo, perché stiamo parlando, lo ricordo, naturalmente di, lo sottolineo perché non l'avevo ancora fatto, ed era importante, di studenti. E' incentrato sul tema dei bisogni educativi il secondo convegno nazionale sulla dislessia articolato in due giornate, che termina oggi presso l'Università della Calabria. La dislessia, o DSA, disturbo specifico dell'apprendimento, è un fenomeno clinico che ormai colpisce in maniera strutturale la nostra società, in particolare i bambini. Secondo le stime più prudenti, ne sono colpiti tra il 2,5 ed il 3,5% dei soggetti in età evolutiva, e ciò rende necessaria l'esigenza di rafforzare la rete territoriale a sostegno di chi soffre attraverso il monitoraggio del fenomeno. Sui quasi 9 milioni di studenti italiani, i casi di disturbi dell'apprendimento sono 184 mila, quelli attesi circa 309 mila, il che significa che circa 123 mila studenti, pur colpiti, non hanno ricevuto alcuna diagnosi e dunque non dispongono di misure necessarie a garantire il loro diritto allo studio. La situazione è particolarmente urgente nelle regioni del sud, dove mancherebbero all'appello circa 70 mila diagnosi di DSA. La Regione Calabria ha approvato una delibera in cui è prevista la realizzazione di un osservatorio ed un bando pubblico pari a 100 mila euro, e da breve dovrebbe essere stilato un protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, per avviare un'azione ancora più efficace tra i bambini della scuola primaria. Il convegno è articolato in due sessioni e cinque laboratori didattico-operativi, e mira a presentare i molteplici volti delle difficoltà che si possono presentare nel corso della vita, e che richiedono particolare cura ed attenzione per giungere ad una soluzione positiva e di benessere psicofisico. Già ieri, durante la prima giornata dei lavori, è stato sottolineato che la promozione di un più proficuo dialogo tra mondo clinico, scuola e famiglia è uno degli obiettivi principali da perseguire, perché una delle principali criticità che si rilevano in Italia è proprio la mancata comunicazione in materia di disturbi dell'apprendimento. In particolare, il fenomeno della mancata rilevazione dei casi di sospetto, DSA, assume carattere di emergenza dal momento che è presente una forte discrepanza tra i casi diagnosticati e la percentuale di casi attesi. Ma basta poco, sottolineano gli esperti, per fare la differenza e supportare chi soffre di tali patologie. Un convegno è importante perché dà la possibilità di formare e di informare, informare il territorio, le famiglie e condividere anche idee tra le varie strutture che si occupano di quelli che sono le difficoltà, i disturbi specifici di apprendimento. Sono delle grandi occasioni a cui il territorio di Cosenza è particolarmente attento. Ecco, gli insegnanti sono come obiettivo proprio della legge 170-2010 ma anche di tutto quello che si aggira intorno al concetto di didattica inclusiva sono particolarmente i destinatari più importanti proprio perché effettivamente hanno una grossa responsabilità di questo che è il capitale umano cioè di quelli che rappresentano il nostro futuro che sono gli studenti, gli alunni di ogni ordine e grado di scuola. L'ufficio scolastico regionale è sempre presente in convegni come questo che vedono coinvolte la disabilità, in questo caso la dislessia, la partecipazione delle due componenti che poi agiscono su bambini e ragazzi, la componente scuola e la componente sanità. È molto importante aiutare a comprendere cosa succede in un ragazzo e in un bambino prima lo riusciamo a fare, prima abbiamo gli strumenti e prima possiamo intervenire in maniera giusta, in maniera appropriata per dare a tutti quello che poi è sancito dalla Costituzione le uguali opportunità per raggiungere gli apprendimenti. Il giro di Crotone-Roma oggi il sorteggio di Champions a proposito ci hanno messo di fronte avevamo esultato troppo presto per il fatto che c'erano due italiani in Champions dopo 11 anni bene, la Juve avrà il Real Madrid e la Roma il Barcellona quindi diciamo che la possibilità che la corsa sia finita per entrambe è molto alta speriamo di no ma verosimilmente insomma partono strafavorite le due grandi di Spagna. Comunque, la Roma ospite del Crotone domenica prossima nel Crotone non ci saranno Scimic, Isco, Festa e Rodie e ormai è chiaro gli altri invece saranno tutti a disposizione stamattina ha parlato Walter Zenga che domenica prossima festeggerà i suoi 100 giorni dall'arrivo a Crotone sentiamo il tecnico milanese. Allora intanto se lei si ricorda bene la conferenza stampa scorsa prima della partita io dissi che qualcuno aveva scritto che venivamo da 5 partite con 3 pari e 2 sconfitte che però così sembrava messa male ma che in realtà la squadra aveva sempre giocato aveva sempre dimostrato di essere in campo a parte la partita con la Spal nelle altre partite aveva sempre dato dimostrazione di compattezza di organico e tutto e questo è quello che io ripeto anche oggi per me il Crotone deve domenica giocare la partita in maniera semplice con grande serenità e deve porre attenzione a quelle che sono le qualità del Crotone le proprie qualità rispettare la squadra avversaria e quella parola che si chiama timore reverenziale sparire dalla mente dei giocatori queste sono le caratteristiche che dobbiamo mettere in campo domenica io guardo sempre quelle che sono i miei giocatori come stanno gli allenamenti che fanno come si propongono come si allenano e come danno le risposte in allenamento e mi baso su quello non sugli avversari quindi è un punto di vista una visione differente non penso che non so se c'è Kolarov Ricci non va bene penso a come Ricci possa mettere in difficoltà Kolarov poi magari sarò anche fin troppo ottimista o magari qualcuno pensa che possa essere presuntuoso ma in realtà mi baso molto sulle qualità dei miei giocatori studiando ovviamente rispettando una squadra che è nelle prime otto d'Europa e siamo felici che martedì abbia fatto una grande partita a livello tattico perché io stimo tantissimo di Francesco è un allenatore che ho sempre seguito anche quando allenava il Sassuolo e lo ritengo bravo preparato e con il carattere giusto per allenare alla Roma no perché noi domenica appena finita la partita avevamo subito la testa alla Roma sappiamo che non possiamo mollare di un centimetro o far sì che possa succedere qualcosa d'altro le partite partono tutte da 0 a 0 quindi le squadre sono sullo stesso livello poi dipende da da come la interpreti e da come ci sono delle situazioni di gioco ricordo che settimana scorsa vi avevo detto la palla non entra mai per caso e per esempio nell'occasione del gol di Simi la palla non è entrata per caso è l'atteggiamento che fa la differenza in un'altra circostanza il portiere l'avrebbe salvata a un po' di casualità effettivamente a un po' di casualità si pensa vi ricordo che sul nostro sito news tgcal24.it potete approfondire le notizie anche le notizie di cui abbiamo appena parlato nel corso del telegiornale e vi ringrazio per averci seguito alla prossima edizione di Info Studio andrei non dalle 19 e 10 a un po' di casualità